Parliamo di digiuno intermittente. È un argomento che è di moda oggi, se ne parla abbastanza, ma vediamo di chiarire in che cosa consiste il digiuno intermittente. Come la parola stessa indica, per esempio, digiuno intermittente è digiunare un giorno e un altro giorno no, quindi praticamente alternare un giorno di alimentazione normale a un giorno di digiuno, oppure appunto digiunare uno o due giorni alla settimana, insomma in maniera intermittente. Però come digiuno intermittente si intende anche una pratica che in realtà andrebbe definita meglio come alimentazione a tempo limitato, che consiste nel assumere degli alimenti in una finestra temporale specifica. Per esempio, un digiuno intermittente può anche essere definito il fatto di mangiare solo in una finestra temporale di 12 ore e digiunare per 12 ore, per esempio finire la cena alle 8 di sera e iniziare la colazione alle 8 del mattino del giorno dopo. Questa è una pratica abbastanza semplice e che tra l'altro può essere praticata quotidianamente proprio come stile di vita. Ma il digiuno intermittente che va più di moda, che è più praticato, è quello in realtà 16-8. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna digiunare per 16 ore e limitare l'alimentazione in una finestra alimentare di 8 ore. Bene, volevo anche precisare attenzione a non confondere il digiuno intermittente con altre pratiche di digiuno come per esempio il digiuno modificato. Il digiuno modificato per esempio consiste nel fare dei giorni dove per esempio si assumono solo degli alimenti o dei cibi liquidi, per esempio di succhi vegetali, di frutto, di verdura, eventualmente con delle proteine in polvere, soprattutto nel caso in cui abbiamo a che fare con degli sportivi. Oppure un'altra pratica che non è un vero e proprio digiuno è per esempio la dieta mima digiuno, che consiste nel seguire una dieta particolarmente ipocalorica, nell'ordine di 500-700 calorie, magari per 5 giorni, 7 giorni e poi tornare all'alimentazione normale. Ebbene, questo non è vero e proprio digiuno, questo non è il digiuno intermittente. Il digiuno intermittente prevede proprio come regola fondamentale il fatto che nelle ore di digiuno non si deve assumere alcun alimento che apporti anche solo una caloria, quindi né zuccheri, né carboidrati, né grassi. Digiuno completo, concesse solo bevande sotto forma di acqua, tè, caffè, ma prive di calorie. Ebbene, dicevo prima che il digiuno intermittente più di moda è quello 16-18. Come si può praticare? Si può praticare, per esempio, saltando la cena e quindi consumando l'ultimo pasto nelle prime ore del pomeriggio e poi dopo arrivando alla colazione del giorno dopo, oppure consumando la cena magari entro le 9 di sera, saltando poi la colazione del giorno dopo e arrivare a consumare il pranzo alle ore 13. Così abbiamo appunto 16 ore di digiuno. Quale opzione scegliere tra le due? La maggior parte degli studi indica migliori risultati eliminando, diciamo, il pasto serale. Questo perché corrisponde maggiormente ai normali bioritmi circadiani dell'organismo. Però non è proprio vero così per tutti, perché alcune persone invece si trovano meglio a saltare la colazione e viceversa consumare la cena, perché invece saltando la cena potrebbero per esempio avere dei problemi di sonno dovuto per esempio alla sensazione di fame, ma anche a una diminuzione della produzione della serotonina e della melatonina che può appunto pregiudicare un sonno fisiologico. Quali sono le indicazioni che vi posso dare per scegliere la pratica del digiuno intermittente 16-8 saltando la colazione oppure la cena? Beh, ovviamente dovete provare e vedrete voi stessi come vi trovate meglio, però in linea generale un'indicazione può anche essere quella a quale morfo tipo voi appartenete. Cioè nel senso che se una persona appartiene al morfotipo ginoide, queste sono soprattutto le donne, cioè che tende a accumulare grasso nella parte inferiore del corpo, questo indica una predisposizione per esempio avere un metabolismo tiroideo un po' rallentato. Ebbene saltare la colazione in queste persone non è una cosa positiva, perché la colazione al mattino è un segnale, proprio è uno start metabolico, proprio per la tiroide, che inizia a produrre gli ormoni tiroidei, che sono gli ormoni fondamentali per stimolare il metabolismo. È proprio un segnale, come se uno si alzasse al mattino e non c'è da mangiare, se non ha da mangiare è bene che il metabolismo si abbassi, quindi gli ormoni tiroidei vengono prodotti in maniera inferiore. Viceversa, chi ha un accumulo di grasso di tipo Android, cioè tende ad accumulare grasso soprattutto a livello addominale, questo è indicativo di insulino resistenza e anche di livelli elevati di cortisolo. E quindi queste persone spesso hanno qualche problema anche ad addormentarsi, proprio perché magari hanno livelli di cortisolo elevati anche verso sera, ma soprattutto proprio perché hanno livelli di cortisolo particolarmente elevati al mattino, tendono a avere la più alta al mattino, il cortisolo è un ormone iperglicemizzante e sentono meno la sensazione di fame. Quindi per questi soggetti saltare la colazione non è un problema, viceversa lo sarebbe saltare la cena e invece assumere un pasto serale ha un effetto rilassante che favorisce il sonno fisiologico che a volte contribuisce ad abbassare i livelli di cortisolo, perché durante il sonno vengono secreti ormoni come la melatonina e il GH che riducono la produzione del cortisolo. Ecco quindi, questo è un'indicazione per quale tipo di intermittent fasting 16-8 scegliere, ma innanzitutto perché fare l'intermittent fasting? La maggior parte degli studi indica che l'intermittent fasting è una metodica particolarmente efficace per ridurre l'infiammazione, per diminuire l'insulino resistenza, quindi abbassare la glicemia, quindi utile per le persone con sindrome metabolico, addirittura di diabete di tipo 2, è utile anche perché stimola il BDNF, Brand Derived Narrow Glow Fatto, e quindi può prevenire le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson, favorisce praticamente l'autofagia a carico di quei organuli del citoplasma che sono eventualmente danneggiati e non funzionano bene e quindi vengono autocannabilizzati e in questa maniera la cellula può funzionare meglio. Quindi senza dubbio l'intermittent fasting è utile proprio nell'ottica della salute, nell'ottica anti-aging, ma non nascondiamoci dietro delle false scuse, in realtà la maggior parte della gente tende ad avvicinarsi all'intermittent fasting per dimagrire, perché viene proposto anche ai fini dimagranti. Vero? Sì, parzialmente però, nel senso che se alcuni studi dimostrano che comunque anche consumando lo stesso livello di calorie, ma limitandolo in una finestra alimentare di solo 8 ore, si ha un dimagrimento rispetto invece a spalmare l'alimentazione nelle 24 ore, ebbene dobbiamo però stare attenti a non farci prendere la mano, non dobbiamo pensare che in queste 8 ore noi possiamo mangiare quello che vogliamo, perché se invece avvenisse questo discorso, in realtà noi potremmo addirittura ingrassare facendo l'intermittent fasting, perché alla fine è fondamentale quante calorie noi assumiamo durante la giornata, è l'elemento più importante. Ma inoltre c'è anche da dire una cosa, la frequenza di questo intermittent fasting, intermittent fasting 16-8, in linea generale, tra l'altro io spesso lo consiglio per compensare anche gli eventuali pasti di sgarro durante la settimana o dopo le feste, eccetera, però può essere praticato regolarmente anche un paio di volte alla settimana. Nella misura in cui però è finalizzato al dimagrimento, perché ovviamente due volte alla settimana è più finalizzato a un mantenimento o a evitare l'aumento di peso, nella misura in cui invece è finalizzato al dimagrimento ed è magari effettuato quotidianamente, ebbene io consiglio di non praticarlo per troppo tempo, massimo un mese, un mese e mezzo, perché se praticato alla lunga tende a ridurre la produzione di certi ormoni come gli ormoni tiroidei che favoriscono invece appunto il dimagrimento. Vero è che a livello ormonale è migliorata l'insunio resistenza, è stimolato anche il GH, che è un ormone lipolitico, però alla fine in realtà alla lunga l'intermittent fasting, soprattutto saltando la colazione al mattino, aumenta i livelli di cortisolo e questo favorisce l'innalzamento della glicemia, ma soprattutto tende a abbassare i livelli di norma di tiroidei e questo si può tradurre visibilmente con un innalzamento dei valori del colesterolo, tipici di una situazione di ipotiroidismo, quindi qualora voi voleste fare il digiuno intermittente, io consiglio di farlo non più di un mese, un mese e mezzo e poi comunque monitorare con degli esami del sangue i livelli ormonali per capire com'è la vostra situazione e se è una situazione compatibile con appunto l'obiettivo che è il dimagrimento.